Ancora bentrovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1 fino alle 18 e chiuso per lavori il tratto della panoramica compreso tra il Vivio con la 1 direttissima e il Roncobilaccio verso Bologna. Chi è diretto a Bologna deve utilizzare la direttissima. Per cantieri segnaliamo inoltre che in Fipilì questa notte in orario 22.6 per lavori di ripristino del Cavalcavia del Cavallaccio è prevista la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Empoli Centro ed Empoli Ovest nei due sensi di marcia. Siamo alle statali sull'Aurelia rallentamenti per cantieri tra l'ingresso del Marocco nell'incrocio variante di Quercianella nei due sensi di marcia. Prima di salutarci per il traffico ferroviario ricordiamo che la biglietteria di Montecatini Centro quest'oggi è chiusa al pubblico. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!